Il daytime di Amici di Maria De Filippi del 13 novembre 2023 mostra le reazioni di Matthew ed Elia dopo le classifiche della puntata, ma anche un lato inedito di un altro allievo. Partendo dai primi due, sono arrivati ultimi in classifica, e ora devono fare i conti con le conseguenze. Chiaramente, Matthew inizialmente sembra aver preso male quanto accaduto. Infatti, lo stesso cantante ammette di essere rimasto molto male per quell'ultimo posto. Allo stesso tempo, però, dimostra di avere maturità dichiarando di accettare di essere in sfida per svegliarsi. Pazzesco! Che umiliazione! Neanche col punto, afferma Matthew, prima di lanciare una bottiglietta a terra. Neanche con il punto conquistato da Petit per la squadra di Rudy Zerbi. Durante la gara giudicata da Giordana Angi, per cui sono anche nate delle polemiche, il cantante è riuscito a salire di posizione nella classifica. Questo vuol dire che Tommaso Paradiso ha dato all'allievo un voto davvero basso. I suoi amici in casetta cercano di farlo riflettere su quanto accaduto. Ma ecco che lo stesso Matthew ad Amici 23 dimostra di aver compreso che affrontare la sfida gli permetterà di riprendersi. Inizialmente era uno degli allievi che conquistava sempre le prime posizioni nelle classifiche. Nel tempo, è sceso. Fino ad arrivare all'ultimo posto. Lo stesso Matthew nota questo. Dando la colpa a se stesso e dicendosi dispiaciuto per Miu. Con cui forma una coppia. Quest'ultima. Come in puntata ha fatto notare anche Maria De Filippi. Non ha preso bene la notizia della sfida che dovrà affrontare il fidanzato. Sono partito bene e poi nel fondo del baratro. Non è per la sfida. Io la faccio. Mi dispiace per Valentina, Miu. Era un cercare di rimanere a galla ogni settimana e qua non funziona così. Mi servirà per darmi una svegliata. Sono più in paranoia per lei che per me. Perché poi mi dispiace. Lo stesso Matthew. Dunque. Si è reso conto del fatto che ha perso un po' la concentrazione. Ora dovrà cercare di recuperare quanto fatto all'inizio del percorso nella scuola con questa sfida. Intanto. Miu si fa consolare da alcuni suoi compagni d'avventura. Mentre piange all'idea di vedere Matthew uscire con la sfida.